Siamo con Francesco Morana, mister del Sant'Orochez Maia. Mister, una vittoria importante per iniziare l'anno e proseguire quanto di buono lasciato l'anno scorso. Esatto, è stata una vittoria sofferta, è stata una parità dura, comunque il Granarolo, nonostante la classifica in ultimo posto, è una buona squadra. Ho provato a fare la sua partita, è passato subito in montagna, in bocca al lupo. Ha provato subito il gol, si è stati bravo, si è mai rimetterla in piedi il primo tempo pareggiandola, poi nel secondo tempo si conoscevano un po' le nostre qualità e il campo nostro e siamo riusciti a portare a casa dei punti importanti che ci permettono di staccare utilemente un'altra squadra. Ora non sono aggiornato sui risultati, però l'importante è che continuiamo la nostra marcia verso l'attività. C'è qualcosa che non ti è piaciuto alla tua squadra oggi? C'è sempre da migliorare, io penso sempre la stessa cosa, comunque queste partite non sono facili da giocare perché, ripeto, siamo una squadra che era l'ultima in classifica, che aveva voglia di venire qua a fare la loro partita, cercare i punti importanti per loro. È comunque un Gardi, è sentito, è andata bene così e sicuramente in settimana lavoreremo sulle fronte. Grazie mille e in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a voi.